Buongiorno a tutti, sono Sabino Schirone, responsabile di filiale della Preomax Sud, filiale del gruppo Preomax che da 40 anni è impegnata nella produzione di componenti per l'automazione preomatica nell'industria di processo, automazione legata al comparto automotive ed attuazione elettrica. Abbiamo ritenuto in un'occasione molto importante quella del Maxpebari per mostrare anche i servizi e le proposte che la filiale può offrire a tutto il territorio assegnato in competenza alla filiale che è il Centro Sud Italia. Il mio auspicio è che possiate venire a trovarci tutti al Padiglione 19 Stelle.